24 aprile 2020 Ciò che non è da Dio crollerà Dagli atti degli Apostoli Capitolo 5 In quei giorni si alzò nel senere di un fariseo di nome Gamaliele, dottore della legge, stimato da tutto il popolo. Diede ordine di far uscire gli Apostoli per un momento e disse Uomini d'Israele, badate bene a ciò che state per fare a questi uomini. Tempo fa sorse Teuda, infatti, che pretendeva di essere qualcuno e a lui si aggregarono circa 400 uomini, ma fu ucciso e quelli che si erano lasciati per soldere da lui furono dissolti e finirono nel nulla. Dopo di lui sorse Giuda, il Galileo, al tempo del censimento e indusse gente a seguirlo, ma anche lui finì male e quelli che si erano lasciati per soldere da lui si dispersero. Ora perciò io vi dico non occupatevi di questi uomini e lasciateli andare. Se infatti questo piano o quest'opera fosse di origine umana, verrebbe distrutta. Ma se viene da Dio, non riuscirete a distruggerli. Non vi accada di trovarvi addirittura a combattere contro Dio. seguirono il suo parere e richiamati gli apostoli li fecero flagellare e ordinarono loro di non parlare nel nome di Gesù. Quindi li rimisero in libertà. Essi allora se ne andarono via dal Sinedrio lieti di essere stati giudicati, degni di subire oltraggi per il nome di Gesù. E ogni giorno nel Tempio e nelle case non cessavano di insegnare e di annunciare che Gesù è il Cristo. I Sinedristi seguirono il parere di Gamaliele, saggio, forse già simpatizzante di Gesù, ma non del tutto persuaso. Egli manteneva un atteggiamento attendista, ma intravedeva la luce e la forza divina del Cristo, riflesso negli umili apostoli. Dio aveva scartato i sapienti e si era rivolto ai piccoli ed umili per far risplendere la sua gloria. Gamaliele, reputato tra i più grandi nel suo tempo, attendeva ancora segni, ma faceva fatica a scendere dal seggio umano della sua sapienza, degli studi, degli onori. Il Sinedrio e i capi dei sacerdoti governavano, ma il Signore li aveva abbandonati poiché avevano rifiutato il Cristo di Dio e la sua dottrina, purezza fontale della legge antica, cristallinità di vita e coerenza, espressione della potenza del Padre, vincitore perenne della morte. approvarono il Consiglio di Gamaliele, ma il cuore era ben lontano dal timore di Dio. Ammisero che poteva trattarsi di un'opera di Dio, ma fecero comunque flagellare gli apostoli. così espressero la loro ferocia irriducibile. La veste religiosa ingannava il popolo. Il tempo e i sacerdoti erano da Dio. Com'era possibile che ora Dio li rigettasse? Il Tempio era prefigurazione del Tempio vivo del corpo di Cristo, insieme ai fedeli. Il sacerdotio antico era prefigurazione di quelli di Cristo sacerdote. Il passaggio sarebbe dovuto accadere con una trasformazione dall'interno, poiché Israele era erede delle promesse. Per questo Gesù andava nel Tempio a pregare e la predicava finché non lo cacciarono. E così pure fecero gli apostoli finché non si scatenò la persecuzione. Il Tempio e il sacerdotio dovevano essere portati a perfezione. Doveva venire il passaggio dal segno alla realizzazione. L'antico patto tra Dio e il suo popolo continuamente tradito doveva essere rinnovato in modo stabile nella fedeltà. E questo avvenne nel sangue non di animali ma del giusto. Il Cristo che suggellava con il proprio sangue il nuovo patto. Eterno perché perfetto. Eterno perché con la morte del testatore si realizzava. Eterno perché l'agnello immolato era risorto per sempre. E sta davanti al trono del Padre come avvocato per l'umanità. Il Tempio ed il sacerdotio avrebbero dovuto realizzarsi con Cristo ma le persone che lo occupavano erano indegne e soprattutto irriformabili. Così se una parte si convertì abbandonando il peccato o le incertezze di fede ognuno come poteva, un'altra parte rimase ferma e ferocemente avversa a Cristo perseguitandolo nei suoi fedeli non potendo più uccidere il risorto. Il Tempio fu lasciato in mano agli uomini e altri uomini lo distrussero. Il Dio rifiutato nel figlio lo abbandonò. Era rimasto solo un guscio vuoto, una struttura senza anima e non sopravvisse al tempo e dalla violenza. Accade per esso quello detto da Gamaliere per i fedeli di Cristo. Cristo e la sua Chiesa ha continuato. Il Tempio ha cessato di esistere. Le strutture vuote di spirito e occupate dal fumo di Satana non sono mantenute dal Signore solo per salvare una facciata. Quando i fedeli nello spirito, i veri adoratori che il Padre cerca, sono colpiti senza sosta, i capi arroganti e superbi vengono lasciati a se stessi ed allora nessuno potrà più difenderli. Se il Tempio è diventato un covo di mercanti e di ladri, essi saranno cacciati. Se il Tempio di pietra rimane nelle loro mani, con loro crollerà. Ma il Cristo è fondamento della sua Chiesa. Gli apostoli ne sono le colonne. E su Pietro le porte dell'inferno non prevaranno mai. Crolleranno le pietre, ma non Cristo e la sua Chiesa. Dio vi benedica.